Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il processo di elaborazione del lutto, in base all'intensità del legame affettivo interrotto, alle sue modalità e a diversi fattori protettivi o di rischio, può essere di durata e complessità variabile. Solitamente, nella sua fase acuta, viene completato entro 6 a 12 o anche 24 mesi in caso di perdite di figure relazionali primarie, genitori, figli, partner, fratelli-sorelle, anche se non sono infrequenti possibili. Se quelle per periodi successivi, si deve comunque tenere conto che il processo di elaborazione è fortemente soggettivo e può durare per tempi assai variabili in base a fattori personali e situazionali. Una triste notizia per l'atletica italiana. Si è spenta dopo aver combattuto a lungo contro una terribile malattia la velocista Umbra Beatrice al finito, azzurra dello sprint, a livello giovanile. Avrebbe compiuto 35 anni nel mese di luglio. Nel 2006 ha gareggiato ai Mondiali Juniors, di Pechino, nei 200 metri e anche nella staffetta 4X100 correndo in prima frazione. Dopo essersi messa in evidenza tra i migliori prospetti della categoria con record personali di 12.01, nei 124.35 sui 200 metri, ma a livello assoluto la sua carriera era stata poi frenata. Da problemi fisici, lo rende noto la Fidel in una nota. Alla famiglia vanno le condoglianze del presidente della Fidel Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l'atletica italiana.